Scoperta nell'era neolitica, la sorgente di Fagnanolone è diventata famosa grazie a una leggenda. Pare infatti che la principessa Longobarda Manegunda, fattasi poi monaca, bevendo quest'acqua ricca di magnesio, fosse guarita da una grave malattia renale. Questo è quel che si tramanda, decisamente in contrasto con l'attuale cartello che recita acqua non potabile, ben in vista, sopra la fonte. Così il pensiero corre alle cappelle del Sacromonte di Varese. Anche lungo la Via Sacra i pellegrini assetati devono fare i conti con una scritta che fa da deterrente. Non potabile, io porto sempre esempio per andare a salire a Sacromonte, lei trova tutte le fontanelle con scritto non potabile e tutti bevono l'acqua. Diciamo che Sacromonte forse non avrà degli scarichi come qui. Io sinceramente la bevo, guardatemi un po'. Il che equivale a dire l'acqua non sarà purissima e ricca di magnesio come all'epoca dei Longobardi, ma di certo non nuoce e nella migliore dell'ipotesi ha effetti benefici. Manegunda insegna.